ti ho spinto pure il dito così evitiamo dei problemi come se fossi io hai fatto già ancora devi solo un quadrame non ti posso fare così non devi attrappare questo che c'è il microfono ok santo cielo gli devo fare tutto io perché oggi il cameraman purtroppo è mio quindi a lui succede tutto su questi video o l'ho portato all'esorcista dopo a quando è finito lo spingono io tu devi solo un quadrame che devo inquadrare ma che sai a fare? prima il soggetto e poi il complemento ok lunedì 25 novembre abbiamo finito questo weekend quindi ci vediamo martedì mercoledì giovedì siamo chiusi ci vediamo venerdì mattina venerdì mattina cominciamo con queste big in modo che questa settimana si tranquillizzano per venerdì mattina e un prosciutto poi quindi venerdì queste big e un prosciutto la mattina ma stai a far fumo davanti al coso? Adriano butti stasicare dai dai ieri non so mi fai ammazzare dai effetto fumo sembra che c'è la neffia quindi queste sono le big per venerdì mattina la mattina c'è ripopolamento dei normali stasettimana arrivano i fari ostellati i pesci più belli del mondo e può darsi pure che facciamo qualche pesce ai fantastici ma vediamo vi ricordo che stamattina in preventivo c'era solamente uno smartphone sono stati dati sette premi più uno smartphone al gigante e quello ai fantastici quindi chi viene a percorrì non ci rimette mai finita fa sul giro a me finita in questo momento non arrivano pesci sopra i 5 kg vediamo questa settimana quindi questi sono pesci e da ieri fino a 5 kg eccoci qua tutte big venerdì mattinazzo ripopolamento erano pure tutte e via pensa che culo chiediamo venerdì alle sette e mezza apertura cancelli ma voi sapete che tanto arrivo sempre prima perciò se vediamo al parco rio il lago più bello del mondo dall'aggettano più bello del mondo che fanno? Dei chiudete hai detto eh ah c'è ragione vai